Mi sono Michela Mazza, uno degli operatori didattici del Parco Paleontologico di Cene. Oggi 17 maggio è stato il primo giorno di apertura del parco, c'è stata una buona affluenza di pubblico. È stata fatta la visita guidata e il laboratorio per i più giovani, la simulazione di scavo paleontologico. È stata qui anche una scuola che è venuta spontaneamente, ha deciso di venire organizzata con genitori e insegnanti di domenica, sfruttando l'apertura domenicale del parco. Il parco sarà aperto da qui in avanti tutte le domeniche pomeriggio di maggio, i sabati pomeriggio e le domeniche tutto il giorno a giugno e poi luglio, agosto e settembre, sia domenica che sabato mattina e pomeriggio. Se volete fare un giro al Parco Paleontologico di Cene trovate i programmi delle attività sul sito www.triassico.it slash parco cene che vengono aggiornati di mese in mese con le attività dei fine settimana che sono gratuite per i visitatori. La visita guidata consiste in un percorso lungo il sentiero naturalistico, dura circa un'ora, un'ora e mezza, durante la quale vengono spiegati gli aspetti naturalistici e geologici del parco e su in cima viene spiegato sulla lastra su cui sono stati trovati i fossili, gli aspetti paleontologici e le metodologie di scavo utilizzate dai paleontologi quando vengono qua al parco a ricercare i fossili. Vengono anche svolti dei laboratori per i più piccoli, i laboratori cambiano di settimana in settimana, sul sito si trovano quelli aggiornati. Noi operatori del parco paleontologico di Cene vi aspettiamo numerosi il fine settimana da qui fino a settembre. Il parco paleontologico di Cene invia Bellora a Cene. Molto interessante, abbiamo deciso di fare una gitta fuori porta, una gitta istruttiva per i nostri figli, i nostri figli sono molto interessati a questi reperti e li abbiamo portati qui a Cene appositamente. Un piccolo handicap perché non ci sono delle grandi indicazioni stradali che indicano proprio il parco paleontologico. È molto interessante sia dal punto di vista della guida, che la signorina è stata molto esaustiva, e anche proprio il percorso fino all'astrone dove ci sono stati proprio i recuperi dei reperti che adesso sono giù al museo di Bergamo, che visiteremo prossimamente. Sicuramente ricordo una giornata piacevolissima, bellissima anche l'ambientazione, sicuramente ci ritorneremo probabilmente anche con gli altri nostri amici che hanno anche loro dei bambini piccoli.